Buongiorno per Notizie d'Abruzzo, siamo in compagnia di Lorenzo Crudele, enologo e candidato consigliere per la lista di centrodestra di Fratelli d'Italia a sossegno del candidato sindaco Angelo Di Nardo. Lei è un giovane e perché ha scelto Angelo Di Nardo? Che è giovane come lei, ma per quali motivi? Ho scelto Angelo Di Nardo perché dietro il centrodestra e dietro questa candidatura c'è stata una forte intenzione di riportare voce ad un settore a Ortona oramai dimenticato, un settore forte e trainante che è l'agricoltura. Quindi tra di noi c'è stato un progetto, un'intesa di mandare avanti questa lotta insieme e quindi ho creduto fortemente nei loro ideali, loro hanno creduto nei miei e proviamo a portare un volto nuovo a questo settore. Bene, lei è un enologo quindi, è un professionista nell'ambito dell'agricoltura. Quali potenzialità ha l'agricoltura oggi ad Ortona? Beh, non c'è da dimenticare che Ortona è il quarto polo vitivinicolo a livello nazionale, ha una forte superficie vitata che diciamo che per la maggior parte ricopre più di 4.000 ettari di vigneti e quindi si può dire che il prodotto interno lordo, il PIL di Ortona, prevale specialmente sul settore dell'agricoltura, in questo caso della viticoltura che è prevalentemente il carretto trainante del settore. Quindi ci sarebbero tante iniziative da fare, tante lorte da portare avanti e soprattutto un sostegno concreto e serio, ma specialmente tecnico, per dare una mano agli agricoltori che sono stati dimenticati. Lei ha insistito molto su questo concetto degli agricoltori e l'agricoltura dimenticata. Oggi si arriva al paradosso che molte imprese agricole vendono al di sotto dei costi di produzione. E quindi per lei, soprattutto in una città come Ortona, dove è molto polverizzata la proprietà, quali progetti ha? I progetti sono tanti. In prima cosa abbiamo le fondamenta che è l'Ortona Doc, che ci tutela dal punto di vista qualitativo di un prodotto ed inoltre si può puntare ad entrare in un mercato, oramai a livello mondiale, che richiede prodotti biologici, prodotti garantiti con tracciabilità. Quindi io credo che il Comune deve farsi capo di questa scelta, entrare in merito alla questione e cercare di aiutare concretamente gli agricoltori dal punto di vista economico, ma anche dal punto di vista tecnico per poter accedere a finanziamenti, ad iniziative che permettano di trasformare un prodotto oramai poco garantito in un prodotto di eccellenza che il mercato è assolutamente disposto ad acquistare. Lei ha tenuto degli incontri con alcuni coltivatori, con alcuni imprenditori e in generale con il mondo agricolo. Puntando su un brand che lei, se ricordo bene, suona così, agricoltura valore vincente o agricoltura vincente, perché ha scelto questo brand? Allora, ho scelto questo brand che è valore vincente perché l'agricoltura deve tornare a vincere, deve tornare nell'alto dello scalino che gli merita, in cui deve trovarsi. Non c'è da dimenticare che l'attuale amministrazione comunale non ha pensato agli agricoltori, specialmente in questo periodo di forte crisi, in cui il settore agricolo è stato fortemente colpito con l'aumento del caro del gasolio e con la diminuzione dei prezzi dei prodotti che gli agricoltori devono vendere. Quindi l'amministrazione non è stata presente in questo periodo, non è stato fatto niente, gli agricoltori sono stati lasciati da soli in balia di un mercato incerto ed insicuro che li porta a non avere sicurezze sul proprio futuro.